La signora Stella, prima parte. Se c'è una cosa a cui non posso rinunciare al mattino prima di mettermi a lavoro è andare in moto a fare colazione nei miei bar pasticceria preferiti di Monteverde Vecchio. Siccome sono affezionato a tre locali e non me la sento di sceglierne uno per abbandonare gli altri, vado a rotazione. Ho stretto amicizia con tanti, anche con i ragazzi africani che fuori dalla porta chiedono gli spiccioli. Buongiorno maestro, forza Roma! È il saluto più frequente con cui mi accolgono. Qualcuno, per farmi contento, si spinge più in là dicendo entusiasta di aver visto mio film. Bianco verdone, sapone verdone, troppo forti, in viaggio con sorella e in bocca al lupo e così via. Non ne azzeccano uno. I più audaci mi prendono in giro con un bel forza Alassio! Una tiepida mattina d'inizio autunno del 2015 ero seduto al tavolino e leggevo il giornale in attesa del cappuccino scuro e dell'immancabile occhio di bue. Riflettevo con stupore che da alcuni giorni nessuno si avvicinava per consegnarmi il solito soggetto, la solita sceneggiatura, la solita raccolta di poesie, i soliti sonetti in romanesco o per chiedermi un video messaggio per la fidanzata, la madre ricoverata, il fratello depresso, il figlio piccolo che sa tutte le battute dei miei film a memoria e l'amica che sta per parturire. Alzai lo sguardo e notai poco lontano una signora che mi fissava. Era sulla cinquantina, distinta, vestita con sobrietà. Già immaginavo la scena, la storia autobiografica che mi avrebbe proposto. Niente. La donna rimase ferma, ma qualcosa in lei tradiva una certa agitazione. Finì il cappuccino. Posai la tazza e la vidi venirmi incontro con il passo di chi sfida a un forte imbarazzo. «La posso disturbare due minuti?» mi chiese con voce tremolante. Con un gesto della mano, già armato di pazienza, la invitai a sedersi al mio tavolino. «Mi dica, signora, cosa mi vuol far leggere?» disse in tono rassegnato. «Niente, assolutamente niente. Non ho mai scritto una riga in vita mia», reagilei, opponendo una timida difesa unita a un'espressione intensa e poi con dolore. «Non so da dove cominciare. Mi chiamo Anna e ho una sorella che sta per lasciarmi per un tumore invasivo. È a letto da molti giorni. Mi creda, soffre tanto». Abbassai lo sguardo per evitare i suoi occhi lucidi. Va avanti con l'ossigeno e forti anti-dolorifici. «C'è solo una cosa che la distrai in questi ultimi sprazzi di vita. I suoi film. Li vede in continuazione», mi disse. «Signora, la ringrazio di farmi sentire così importante. Forse troppo». Frenai tentando in vano di prendere le distanze. «Dottor Verdone, lei può essere ancora più importante per mia sorella», proseguì la signora. «Come?» «Una settimana fa è venuta a sapere che lei abita vicino a casa nostra e che viene spesso a fare colazione in questo bar. Ieri mattina i dolori e le crisi respiratorie gli hanno dato un po' di tregua, così mi ha supplicato di riferirle del suo desiderio di conoscerla, caso mai l'avessi vista. Ero imbarazzato dalla sua compassionevole onestà. Fortuna ha voluto che lei oggi fosse qui, per cui la prego di riservare mezz'ora del suo tempo per mia sorella. Vuole soltanto dirle grazie». «Certo, dopo domani alle diciassette può andare bene», dissi sciogliendo il nodo che avevo in gola. La signora Anna mi abbracciò. Sentivo le sue lacrime bagnarmi l'orecchio. «Avevo tanta paura che mi avrebbe detto tra chissà quanti mesi, perché ormai siamo agli sgoccioli, dottor Verdone», aggiunse. «Le piace il tè al gessomino?» domandò, mentre mi scriveva l'indirizzo su un foglietto. «Molto, ma non si disturbi». Con un sorriso tenue e le guance arrossate, uscì dal bar pronunciando un impercettibile «Grazie». «Devo ammettere che per qualche secondo mi soffermai a riflettere sulla sincerità di Anna. Ormai vivo nel perenne sospetto di trovarmi di fronte a mitomani, squilibrati o veri e propri maniaci. Ho assistito a tanti di quegli episodi pazzeschi che sono sempre molto attento a scrutare bene che ho davanti. Tempo fa ero bravissimo nell'inquadrare al volo chi incontravo per la prima volta. Oggi, invece, dopo aver preso due spiacevoli cantonate, non mi sento più tanto infallibile. Certe patologie sono diventate così multiformi e diffuse che rischio di scambiare per stravaganza autentici disturbi della personalità. Il dubbio quella volta svanì subito. C'era troppa sofferenza sul volto della signora e il disagio con cui mi aveva chiesto il favore non poteva essere una messa in scena. Sentivo una forte motivazione. Dovevo proprio andarci. Il destino era stato benevolo con me fino a quel momento e non potevo ritrarmi davanti a una donna che, in procinto di lasciare la vita terrena, aveva espresso il desiderio di vedermi per ringraziarmi. Mi era montata una leggera ansia. Chissà in che condizioni era la signora malata e, se l'avessi vista simile a mia madre nei suoi ultimi giorni, temevo di vivere di nuovo un incubo che aveva impiegato anni a sbagnire.